Pirelli e Inter da sempre insieme, ma soprattutto in tutto il mondo insieme, occasione anche qua a Filadelfia di stare insieme fra una grande azienda e una grande squadra. Assolutamente sì, in linea con le nostre strategie, noi chiamiamo come Pirelli il Nord America un mercato maturo e emergente, come lo è un po' per il calcio, per cui per noi è molto importante che l'Inter e il calcio crescano negli Stati Uniti e aiuti sempre di più questa associazione di marchio. Un incontro con i giocatori in un albergo, un incontro con i ragazzi, con i tifosi, con la gente a Washington con grande divertimento per strada. Anche questi sono modi di far vivere una partnership fra le due aziende. Assolutamente sì, per noi l'activation della partnership è fondamentale, per cui è molto importante ovviamente la presenza del marchio sulla maglia, in televisione, ma anche proprio attorno agli eventi è importantissimo affermare e confermare questa partnership. L'Inter dà tanto a Pirelli, Pirelli dà tanto all'Inter, possiamo dire che i due marchi si aiutano negli sviluppi di cui parlavi prima? Sì, certo che sì, ovvio che in alcune parti del mondo questa partnership ha avuto molta più visibilità che in altre, per cui in futuro è molto importante avere ancora più visibilità negli Stati Uniti, cavalcare questa crescita del calcio, soprattutto anche dopo il mondiale, abbiamo visto delle audience su ESPN altissime, per cui è un'opportunità ulteriore di avere visibilità non sui soliti mercati, ma anche su mercati che, seppur maturi come gli Stati Uniti, sono emergenti per noi. E poi una bella figura fatta qua in America con questa tournée, conclusa con una bella vittoria, male non fa. Assolutamente sì, insomma si dice sempre che le partite importanti vengono più avanti, ma è meglio fare bene nelle partite un po' meno importanti. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...